8 marzo a Teramo al carcere di Castrogno, questa visita organizzata dal partito radicale nella sezione femminile del carcere. Abbiamo con noi la direttrice Lucia Di Felici Antonio, alla quale chiediamo come si può organizzare questa visita solo alla sezione femminile del carcere di Castrogno per l'8 marzo. Direttrice. Beh, in effetti oggi è una giornata di festa per tutte noi, mi vedo circondata da splendide signori, un saluto particolare a Marisa e sì, visiteremo il femminile, quindi è un segno di attenzione importante per le signore che sono con noi e so che ci saranno dei fiori anche per loro perché lei mi ha già anticipato qualcosa. Oggi è la giornata conclusiva di una serie di manifestazioni che abbiamo tenuto in settimana e quindi sarà un momento bello di condivisione e convivialità immagino. Grazie direttrice. Marisa Di Pietro ora, che è componente di questa delegazione in visita al carcere di Castrogno, la domanda è questa, è la prima volta che entri in visita al carcere di Castrogno? Marisa? È la prima volta che entro al carcere ma diciamo che conosco la realtà del carcere per fatti altrui. Benissimo, benissimo. Continuiamo con le interviste. Prima le donne e di conseguenza appunto Monica Brandiferri, consigliera di parità alla provincia di Teramo e anche credo a quella di Chieti. Quindi ulteriore visita a Castrogno. Appunto Monica per Radio Radicale, che indirizzi ritieni possa avere questa visita specifica, speciale alla sezione femminile del carcere di Castrogno? Beh, grazie a Roberto perché come consigliera di parità non potevo mancare, non potevo comunque dire no al tuo invito che ho accolto da subito perché sono stata diverse volte e penso che comunque la nostra presenza, soprattutto come istituzioni, sia importante. È importante perché le donne in questo particolare giorno, la giornata internazionale della donna, dei diritti delle donne, in cui comunque abbiamo tanto combattuto ma c'è ancora tanto da fare, lo dobbiamo portare all'interno del carcere. Io oggi ho voluto portare con me dei libri che sono nati dalla campagna di sensibilizzazione ma anche comunque da un premio letterario, è sempre il 25 novembre, tutte insieme contro violenza e discriminazioni, dove ci sono donne e racconti di donne che ce l'hanno fatta. Quindi un messaggio di speranza anche per donne che hanno scelto o che si sono ritrovate in condizioni diverse da noi che siamo fuori dal carcere. Quindi grazie a Riberto e grazie ancora. Un augurio speciale per queste donne che vivono condizioni comunque difficili all'interno di una struttura nata soprattutto per gli uomini. Quindi la nostra vicinanza non può che essere comunque di speranza e di un futuro migliore anche per loro. Speranza per un futuro migliore. Caterina Provvisiero, anche lei appunto in visita qui l'8 marzo a Castronio. Ci sono anche le elezioni regionali con Marisa Di Pietro che è candidata per la lista dei verdi di sinistra. Caterina Provvisiero invece è candidata per la lista di Forza Italia al rinnovo del Consiglio regionale. Questa visita al carcere di Castronio l'8 marzo specifica per la sezione femminile del carcere di Castronio. Che suggestioni ti porta a pensare? Buongiorno, grazie per l'invito. Devo dire che sono suggestioni speciali. Tu sai che io non sono nuova perché tante progettualità e tante esperienze portiamo avanti insieme. Però oggi è un giorno speciale per noi, per tutte le donne e anche per queste donne alle quali veramente noi vogliamo dare un messaggio di speranza, quello che diamo ogni volta che entriamo e facciamo sentire la nostra presenza. E in questa giornata particolare per noi candidate in cui si chiude questa campagna elettorale vogliamo veramente lanciare un messaggio a tutte le donne che possano trovare in noi la forza, la determinazione per poter rappresentare tutti gli elettori e in particolare le donne. Ed è proprio a loro che lanciamo questo invito perché penso che in noi c'è la forza, c'è la capacità di poter prendere in considerazione tutte quelle che sono veramente le problematiche che richiedono una politica per il bene comune. Grazie. Quindi Maria Antonietta Cerbo, che ci accompagna anche questa volta in questa visita speciale, Puoi anticipare dei punti salienti che secondo te potrebbero essere di apertura al dialogo e all'ascolto delle detenute in particolare in questo giorno importantissimo dedicato alle donne, alle lotte delle donne come giustamente si diceva prima, Toni? Per prima cosa dire che io conosco abbastanza bene la realtà penitenziaria perché ho lavorato come dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna, cioè di quegli uffici che si occupano delle misure alternative e della messa alla prova e che lavorano sul territorio, nella comunità. Quindi conosco chiaramente tutte le problematiche che riguardano le donne che hanno commesso dei reati, quindi condannate, sia che siano detenute, quindi che seguino la pena all'interno che all'esterno. E quindi è molto interessante per me, che tra l'altro sono anche sociologa e criminologa quindi mi occupo di questi problemi professionalmente, sentire se qualcosa negli ultimi tempi è cambiato cioè si è venuti più incontro ai bisogni delle donne che sono in carcere soprattutto perché la loro realtà di detenzione è particolare, in particolare qui il carcere di Castrogno ha una sezione femminile appunto dove stiamo per entrare dove sono anche, in questo momento mi risulta non ci siano, ma detenute madri con bambini piccoli e quindi noi vogliamo sentire anche come vivono attualmente, quali sono le loro esigenze, cosa sentono rispetto alla loro realtà che è femminile, che chiaramente si diversifica rispetto a quella maschile in un istituto che è penitenziario e come gli altri comunque è stato strutturato architettonicamente diciamo su un modello maschile Una battuta conclusiva insomma, qual è? Quindi noi ecco, quello che mi auguro è che in questo incontro con le donne loro si aprano e ci esprimano le loro esigenze le loro sensibilità, le loro problematiche per cui noi possiamo poi fare qualcosa per migliorare la loro condizione e soprattutto esistenziale Bene, speranza, miglioramento, attenzione alla vita politica in regioni Abruzzo Manola Di Pasquale è dirigente del Partito Democratico abruzzese anche questa volta con noi e peraltro iscritta al Partito Radicale Certo, questa mattina l'8 marzo a Castrogno alla sezione femminile, come lo vedi? Intanto mi faceva piacere trascorrere il giorno delle donne dell'8 marzo in maniera diversa e quindi stare in una sezione femminile di un carcere come il nostro, questo di Castrogno sicuramente mi rendeva utile alla collettività ascoltare le donne ritenute significa prendere delle problematiche di vita loro ma anche di vita all'interno del carcere e quindi delle problematiche del carcere che a noi purtroppo sono note e combattiamo sempre, attenzioniamo sempre per cercarle la risoluzione ma anche per parlare con loro di cultura, di diritti sono permesso di regalare alla biblioteca alcuni libri che riguardano le 21 donne che hanno fatto la Costituzione italiana, è un libro molto semplice da leggere quindi chiunque lo può leggere all'interno della struttura carceraria e anche perché il diritto, la conoscenza e i diritti fondamentalmente ci rendono liberi liberi di fare delle scelte consapevoli e quindi comunque trovarsi a Castrogno in una scelta consapevole Bene, libertà quindi si aggiunge alle altre parole importantissime che sono state pronunciate Speranza, attenzione per la politica e attenzione per le condizioni Lucia Umile, avvocato doganalista, giuliese quindi di Giulianova è amica fin dai tempi della matricola a giurisprudenza è la prima volta che entri nel carcere non per visita ma per andare a ascoltare in questo caso l'8 marzo, le detenute nella condizione in cui vivono Lucia, per Radio Radicale Ariberto, mi provochi? Sì, provocare vuol dire avere delle risposte e io sono una donna fra le donne il mio lavoro mi porta ai confini del mondo ma del mondo economico fatto spesso e troppo spesso solo di uomini quindi il mio è un moto di solidarietà rispetto a donne meno fortunate di me che vivono in una situazione di marginalità che devono riconquistarsi la vita e che cosa le porgo? l'augurio di riconquistarsela in un mondo più pacifico nel quale vi siano meno barriere, meno muri più solidarietà in cui le donne siano di nuovo la seconda parte dell'universo di nuovo sì perché tanta storia se l'è dimenticato quindi vorrò chiedere a loro quanto nella loro problematica abbia inciso e pesato essere donne a me, per me non è stato facile però sono stato più fortunato fortuna bene, io passerei ora alla parte maschile è un terzo, attenzione, della compagine diciamo così che entra oggi verso la sezione femminile del carcere di Gastronio cominciamo dal più giovane di tutti studente a giurisprudenza Jacopo Di Michele bene, per Radio Radicale questa volta, quest'ingresso specialissimo l'8 marzo a Castronio che riflessioni ti induce? ma è importante fare una visita ad una sezione come questa alla quale forse le altre volte abbiamo dedicato meno tempo del necessario ed è importante farlo in una giornata come questa l'8 marzo che è una giornata simbolo perché quando si parla di diritti, di uguaglianza delle donne bisogna farlo partendo da quelle che sono le meno fortunate che forse più delle altre subiscono la disparità e quindi è importante essere qui oggi grazie bene, grazie Tommaso Navarra presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Laga con noi, col Partito Radicale bisognerebbe iscriversi al Partito Radicale e comunque contribuire in ingresso l'8 marzo nella sezione femminile del carcere Tommaso per Radio Radicale grazie a Riberto io penso che l'altra metà del cielo come si diceva il secolo scorso che ci ponga oggi in tutta la sua crudezza il senso dell'inutilità delle carcere oggi più che in altri giorni possiamo toccare chi le con mano come questa istituzione ormai è desueta e non assolve nonostante i costi sociali ed economici che chi le rappresenta non assolve alcuna chi le funziona oggi vediamo e tocchiamo chi le con mano per esempio l'assenza del diritto all'affettività che hanno queste donne e di cui nessuno chi le ricorda né in ambito sociale né in ambito culturale né in ambito legislativo oggi porteremo non solo una solidarietà ma un momento di riflessione all'esterno nel contatto con la stampa per dire serve che 30 donne siano rinchiusa nel carcere di Castrogno la risposta naturalmente è retorica non solo non serve ma un costo e una privazione profonda di diritti di libertà e di umanità che non ci possiamo più permettere grazie Tommaso quindi entriamo ora al carcere di Castrogno alla sezione femminile e riprenderemo il collegamento dalla sala consigliare dell'amministrazione provinciale di Teramo a mezzogiorno dove esporremo le risultanze di questa visita oggi 8 marzo giornata internazionale delle donne bene grazie a tutti